Si parte dalla natura, perché la reale maestra diventa proprio la natura e l'esperienza e l'osservazione diventano il reale insegnamento per i bambini. Si trovano a Maida, nell'Amettino, immersi nei boschi dell'agriturismo costantino, il primo agrinido e il primo agriasilo del sud Italia. Qui i bimbi vengono seguiti secondo il modello della pedagogia montessoriana, fuso agli approcci di quello dell'asilo nel bosco. Natura e creatività diventano i binari principali di arricchimento e di apprendimento. I giochi vengono fatti dai bimbi stessi con materiale di reciclo o con ciò che trovano nei dintorni. Le galosce e le mantelline sono sempre pronte, non esiste il concetto asfittico di quattro mura. Imparare significa vivere e respirare all'aria aperta e con il contatto con il mondo esterno. È un'avventura, un'avventura continua perché andiamo in giro, usciamo e vanno un po' in natura. Quindi noi cerchiamo di lasciarli liberi, naturalmente cerchiamo anche di responsabilizzarli a prendersi cura di se stessi e dei compagni. L'alimentazione è più che a chilometri zero ogni giorno e il cuoco a dare la lista ai bimbi di ciò che va raccolto. Vanno nell'orto o dagli animali, danno da mangiare, raccolgono nel cesso tutto il materiale richiesto dal cuoco e lo lasciano in cucina. E poi attendono con molto appetito che quelle cose vengano cucinate. Ma sono anche loro a seminare e coltivare il loro personale orticello, un modo completamente nuovo e ribaltato di concepire nidoesilo e che risponde ad un unico obiettivo. Offrire alle future generazioni una maggiore qualità, soprattutto pedagogica. Tiziana Bagnato per la CNews24